Calova. Puoi provare Calova con l'estratto brevettato della radice di Pelargonium Sidoides per dire... Ritorno alle radici. Calova. E da oggi anche in pratiche bustine orosolubili. A volte bisogna dire di no. E quando dici di sì, per loro significa tanto. Kinder Cioccolato è perfetto per dire sì a un momento dal gusto unico. Kinder Cioccolato. Piccola barretta, grande bontà. Signor Bonolis, posso aiutarla? Ah, buon uomo. Sa che sono venuti tutti qua, allora mi sono detto, non è che mi sto perdendo qualche affare. Sulla collezione Affari d'Oro ci sono sconti fino al 70%. Questo ha 699 euro. Oh, la penisola mi sollazza. Guardi, 599 euro. Che pelle morbida. Quanti ricordi. Dov'è stai? Qua. Termina domani. Ah maestro, lei è mio ciel di bosco. Eh, che non ti piace il bosco? Foltrono e sofà, sono divani di qualità. Un po' di bosco le starebbe bene, c'è il deserto. L'amore è in te e lo crei in ogni cosa che fai. Pandora Ho preso le qualità migliori della mia famiglia. La leggerezza dei sorrisi di papà, l'equilibrio della mamma e la purezza del cuore dei nonni. Come l'acqua Santa Croce, che possiede tutte le migliori qualità di un acqua oligo minerale. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una. Ci sono cose così speciali che non puoi tenere solo per te. Nutella Biscuits. Il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Una grande emozione nata per essere condivisa. Nutella Biscuits. Un cuore grande. Musc Nude The new fragrance for her Narciso Rodriguez Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo. Trio carbone migliora il benessere intestinale. Da Pulfarma in farmacia. Milka vi augura buona visione. Tutto è, è formidabile. Buonasera e ben arrivato.